non so non so se è un fake ma credo di no su questo post di spazio milan dove crescitiello dice ibra è inadatto c'è un like c'è un like di camarda pesante sarebbe molto grave nel caso se dovesse essere così è pesante scusate io non so secondo quale dinamica uno che ha fatto il calciatore nello spogliatoio è stato un uomo carismatico poi tutto un tratto messo a fa il dirigente diventa ingenio tutti ascoltano a me mi sembra forse che è il contrario vediamo abbiamo visto l'esempio di altri dirigenti che erano stati calciatori che hanno fatto cose simili a quelle che ha fatto ibrahimo c'è brahimo cina quando faceva i gol e faceva vincere le partite è chiaro che era rispettato tutti i compagni di squadra pure intimoriti ma adesso che fa il dirigente ma questi sono calciatori c'hanno il contratto ma infatti sono due ruoli totalmente diversi infatti anche perché un dirigente deve saper mediare determinate situazioni con i calciatori se sei stato uno spogliatoio non comandare ovvero devi comandare ma ibrahimo che non comanda che comanda ibrahimo che c'è al milan niente però c'è in adatto perché proprio mi sembra pure perché fino adesso non sembra ma sembra uno che si sta prendendo lo stipendio e stava perché sta al milan della vetrina trampolino neanche dal milan viene pagato milan non dalle prega lui è pagato lui è pagato sempre quel ruolo ricopre però ma lui è come se sopra il mio no no lui è tipo c'è a lui e la voce della proprietà se però praticamente come un portavoce ma come l'annunciatore insieme a quella roma sono i peggiori italiani regionale però può essere cioè queste due proprietà e rispettose del calcio dello sport del passato delle squadre se voi tutta quella pagliacciata che è successa all'olimpico i giorni dopo ma quadriano galliani sarebbe successa quella scuola cazzata che è stata fatta poi c'è la quale quale ma non è neanche paragonale di teo di leao culin break poi il giorno dopo non è successo niente sarebbe mai successo assolutamente vabbè però parli di galliani stessa parla proprio ho capito il livello del milan e galliani cioè non stiamo a parlare da con tutto rispetto della salernitana del venezia no dico come come dirigente a rione adesso te ritrovi questi qua che chi si pensano che c'è si chiama ebraimovic va dentro lo spogliatoio così no perché qua ma c'è torri giocatori se ne fregano tutti ma ma gli stessi calciatori che c'erano in rosa al milan quando c'era galliani ma dai non scherziamo ragazzi no no ragazzi ma a parte che raga ma uno che fa queste cose fa ormai l'imprenditore di se stesso ma è un altro lavoro certo prima il problema è stato dargli questo compito c'è anche perché secondo me sono le aspettative dei tifosi che sono diverse ma adesso ancora per cento sono delle capre ancora dal fatto ma non penso che siano tutti così però non penso che tutti a pensano a sto modo io non capisco no ma io non capisco scusami io non capisco il senso cioè qual è il senso di dargli quel che cosa volevo mantenere ma guarda ce l'ha pure zanetti c'è l'avrò diverso zanetti va alle feste fa la foto e torna a ca questo dovrebbe fare di ibrahimovic ma dovrebbero essere delle figure funzionali cioè io so da roma se a me mi dice sarebbe come non sono andato nel mondo ma sarebbe scena questa fa male totti totti sono andato perché non voleva fare con l'ha detto io non faccio più non presto la mia immagina sta cosa che era capace non era capace non lo so quindi scusate voi pensate che se ibrahimovic va una festa come fa zanetti però ibrahimovic fa tutto un backstage poi pubblica il video e monetizza questa roba nel suo fa il lavoro meno seriamente di zanetti cioè lo potrebbe no 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 questo è vero c'è zanetti c'è un compito c'è ibra c'è tutto dovrebbe avere tutto un altro compito e quindi ibra non fa il suo compito e pensa a più ma no ma canetti zanetti stava pure più vicino ma scusate ibrahimovic è il rappresentante in italia della proprietà del proprietario lui rappresenta ma non che significa e fa quello che gli dicono dall'america lui viene qua e dicono quelli mi hanno detto di fare questo ma non è che decide lui decidono l'america lui li rappresenta qua e dite allora a me mi hanno detto di fare sta cosa quindi qua si fa così non è uno che viene là e dice di mente sua di testa sua no ma non è che uno di testa sua viene qua e prende delle decisioni allora ragazzi datemi giusto 30 secondi perché devo parlarvi di un'offerta pazzesca di nord vpn dal 17 agosto all'11 settembre ma prima perché nord vpn punto primo sicurezza ovunque non solo il computer il laptop ma anche per esempio lo smartphone o il tablet saranno al sicuro ovunque quindi l'ideale per chi fa dei viaggi altra cosa importante blocca i siti pericolosi e ti manda gli avvisi sul dark web ma veniamo all'offerta come dicevo dal 17 agosto all'11 settembre se acquisti un piano biennale tramite questo link riceverai 4 mesi extra di abbonamento per te stesso e un coupon di 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi tu ragazzi muovetevi perché questa è un'offerta imperdibile vi faccio vedere un attimo il profilo di zanetti no però ragazzi sono due modi di comunicare che sono evidenti che sono diversi poi le pubblicità le fa anche zanetti e come vedete però è un modo proprio di comunicare al dj con diverso da una parte abbiamo un po fa differenza avanti a modo di comunicare non fa la differenza dovrebbe nemmeno capito quale pensiero occhia io stavo dicendo che zanetti arriva molto più in punta di piedi di bravo nell'inter inizia un percorso che fa molta più gavetta per arrivare poi a quello che è oggi invece invece è vicepresidente ma è rappresentativo comunque un uomo è un nuovo importante per la per la società per non c'è potere decisione avrebbe ibra è questo il problema ma è uno secondo me nemmeno nel mondo è diverso no io ho capito quello che tu dice ed è chiaro penso anche agli altri voi pensate che c'è a potere ma lui non ce l'ha secondo me auguro a voce in capitolo è sbagliato di che zanetti non conta niente come per tante decisioni aiuta incide non hanno qualche decisione lo rapprende nel senso si ma spera gli evoli su qualche cosa ragazzi ma se chi è che premere il bottone per scegli a ob non so nezzanetti e nebra in questo mi sembra abbastanza chiaro se deve essere chiaro pure mi domando appunto mi domando che ruolo cioè la centralità del ruolo che gli è stato dato in base a ma non è la centralità ma la centralità non è un ruolo centrale lui ha un ruolo di rappresentanza che è una cosa secondo me queste proprietà straniere mettono in ruoli diciamo di facciata questi giocatori per creare una continuità con la storia perché altrimenti non sarebbe più manco lo stesso club cioè se tu oggi prendi il milan di oggi non è il milan che ci stanno i tifosi del milan oggi che lo tifano a prescindere per i colori la città quel milan non c'entra niente totalmente slegato l'unico diciamo ancoraggio a una storia del passato in questo momento ibraimovic perché anche la roma anche i freddi che l'hanno fatto mettendo in panchina di rossi quest'anno però perché gli scorsi anni non l'ha fatto non c'era nessuno c'è la roma c'è però hanno preso murigno era preso murignano preso e che fa murigno che c'entra castare da roma murigno no però è un natore sovradimensionato a quella che il livello della roma sembra abbastanza evidente prendi un personaggio aggregatore oppure da fidi oppure da pd a una vecchia gloria sembra abbastanza semplice ma sicuramente questo però si chiama scusate ma scusate ma poi ci vedete uno che fa sta cosa cioè io voglio bene ma questa dirigente faccio la palletta palla pallone con il raggio la pagina la figura che dici tu scusa che c'entra che c'è un attacco sto dicendo la io per esempio non ce l'ha sto dicendo la dirigenza io esagerata eh eh però professionista non è né una vecchia gloria né uno che richiama ma non tutte le squadre ce l'hanno sto dicendo secondo me c'è nessuno posso dire una cosa la cosa più odiosa che secondo me ammazza anche un pochino il calcio il discorso degli algoritmi io per esempio è una cosa che fanno loro stranieri soprattutto una cosa che veramente non concepisco è con i quali però con gli algoritmi vanno a scegliere poi le figure che vanno ad allenare le squadre e anche altre figure dirigenziali ma rimetti quella rimetti quella storia quella quella quando stacco i razzi in acqua che fa i duffi c'è questa storia qua è stata messa quando a milano c'erano i tifosi rivolta perché non arrivava nessun giocatore che questi stavano così e questo si va a fare i bagni duffi io tutto rispetto ma lo farei pure io con sto coso però non mi sembra uno di quelli che dici cazzo la campagna non sta andando bene ragazzi ma quando uno fa il dirigente quando uno fa il dirigente ed ha un compito di è una pubblicità negativa arrabbiato prende lo stipendio sta pochino ma sempre non è il suo compito siamo in italia dove persino una politica cazzeggio ormai sui social ma la cosa bella è che voi vede tutto questo perché il milan va male se mi la stava andando bene nessuno avrebbe guardato in quel momento qua se tu con un giocatore ibra con scissione lo dice in quel mezzo al calcio mercato se c'è potrebbe decisionare se comprare i giocatori è la che stai a fai tuffi di armare e coi razzi è come per dire quando la roma è andata in turn in inghilterra torna arrivava mezzo giocatore vedevi che ne so che se faceva bagni armare vedevi pratiche che facevano i capriole all'acqua fai per questo è l'organigramma del milan raga decide furlani e mi sembra abbastanza chiaro beh at by sape di lui è un rappresentante nel mondo è uno che la figurina il mondo ma pur anni è quello che decide perché pur l'altro mi sa che furlani non ha ma possiamo dire secondo voi ma lì dice dal punto di vista economico quindi ti dice l'operazione si fa non tecnicamente ma economicamente quindi lui ti dice non gli interessa nemmeno chi prendi tu prendi pure bappe era quello che dice ma poi abbiamo sti sordi oltre questo si spende una lira in più ma gli fai spiega guarda che se viene in bappe vince ma quello che prega niente quello che fa quattro ai conti al contattile sembra semplice possiamo dire che ibra sta al milan come alessia lanza sta al festival di venezia cioè che è stato messo lì perché così rompevano il cazzo a lui o a lei e non rompevano il cazzo invece agli altri o dicendo che fino adesso no alessia lanza fa parte di una di una strategia della biennale di venezia del nostro cinema di venezia per portare attenzione dei giovani sul festival e ibra in me si è bravo sono d'accordissimo però così la gente parlava male magari di lei anche ho visto su sui tit su twitter però se vuoi da continui dalla storia non è una mossa giusta secondo me è perché fai prende per culo i bravi musce scusatemi non paghi apposta per far qualcosa ragazzi c'è alla lunga che cosa hai portato ma scusatemi ma i bravi merda quando ha giocato a pallone ma stava a farla di nilana ragazzi non è che stanno a parlare ragazzi aspettate ma i bravi novità il milano è più grande di progetti che la vittima mi penso adesso come i bravi ci ha cambiato squadra ogni settimana la società ha cambiato squadra per guadagnate più ma ti pare che rinunce ai soldi a uno stipendio del genere e farsi ma chi è brega